Avvasto il giorno della giunta. A mezzogiorno è scattata l'ora X con il sindaco Francesco Menna che ha presentato i componenti della squadra di governo della città. Tra conferme e nuovi nomi ecco il volto nuovo del team Menna, quattro di assessori riconfermati dal sindaco per il secondo mandato. Anna Bosco, Paola Cianci, Carlo Della Penna e Gabriele Barisano, ma per alcuni di loro cambiano assessorati e deleghe. La Bosco si tiene stretto, l'assessorato all'istruzione ottiene quelli dello sviluppo economico e alla transizione digitale. All'assessora anche le deleghe a politiche portuali, ferrovie, ZES, politiche europee e politiche energetiche. Per Paola Cianci, passaggio dall'assessorato all'ambiente a quello del patrimonio e servizi civici, con la riconferma della carica nel settore delle politiche giovanili. La Cianci ottiene anche le deleghe alle politiche per l'edilizia residenziale pubblica, difesa e tutela degli animali e food policy. Cambio di casacca anche per Carlo Della Penna, che perde il settore turismo, ma conquista sport, smart city e sicurezza, con deleghe alle politiche di mobilità, impiantistica, sportiva e polizia locale. Barisano è il nuovo assessore all'ambiente, all'ecologia e ai tributi comunali. Per lui anche le deleghe per aree protette, isola ecologica e centro del riuso, via verde della costa dei Trabocchi. A completare la squadra del sindaco, tre volti nuovi. Nicola Della Gatta, Felicia Fioravante e Alessandro Delisa. Per Della Gatta la prima esperienza nell'assessorato alla cultura, al welfare e all'inclusione sociale. Sue, anche le deleghe a politiche sociali, realtà periferiche e integrazione. La Fioravante inaugura la sua esperienza in consiglio comunale con la nomina vice sindaca e l'assessorato al turismo, lavori pubblici e la città del benessere. Con deleghe a opere pubbliche, fondi per lo sviluppo e finanziamenti e marketing territoriale, Adelisa ha segnato l'assessorato alla pianificazione urbana, ai servizi manutentivi e ai servizi informatici. Sue, le deleghe a decoro di spazi pubblici e quartieri, servizi informatici comunali e politiche di rigenerazione urbana. Restano competenze in capo al sindaco quelle relative a igiene e sanità, pianificazione sanitaria e bilancio personale e protezione civile.